C'era chi sperimentava miscele esplosive con sostanze chimiche acquistate su internet e chi chiedeva informazioni e consigli su come confezionare molotov esplosivi e detonatori, pubblicando anche foto degli ordini realizzati. E' quanto svelato da un'inchiesta del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano, che ha individuato alcuni spazi Telegram utilizzati da giovani minorenni che condividevano una morbosa attenzione per armi ed esplosivi. Attraverso i canali di messaggistica si scambiavano informazioni e condividevano foto e video. Nelle chat qualcuno di loro riferiva come i propri genitori fossero contrari alle armi. Allora me le fabbrico io oppure me le prendo da qualche parte.